La stazione Meteo Trevi ME3135RC con display a colori LCD è uno strumento multifunzionale capace di darvi una serie di importanti informazioni. È un orologio radiocontrollato con sveglia a suoneria programmabile. Vi fornirà previsioni meteo, fasi lunari, calendario, pressione atmosferica e umidità. Inoltre, fornirà informazioni sulla temperatura interna ed esterna grazie all'apposito sensore incluso nella confezione da posizionare all'aperto. La Meteo Station si può alimentare a batterie o mediante rete elettrica con il cavo in dotazione. Tutte le informazioni vi vengono mostrate con semplici icone sul grande display a colori.